Abbiamo due progetti in sviluppo tra l'Italia e l'Ungheria, da una parte lo sviluppo del porto di Trieste, dall'altra parte in Ucraina a Gorond, una cittadina dove cerchiamo di realizzare un progetto di logistica italo-ungorese. Abbiamo una forte cooperazione nella difesa tra i due paesi. I soldati, le forze militari che sono presenti in Ungheria, gli italiani sono quelli più numerosi. Abbiamo 250 militari italiani che sono presenti in Ungheria all'interno della collaborazione Nato. I soldati italiani e ungheresi lavorano insieme nei Balcani. abbiamo 260 ungheresi nei Balcani e anche nel K4 dove abbiamo più di 600 soldati ungheresi e molti più italiani. E quindi è evidente che la collaborazione tra i due paesi non riguarda solo l'economia ma riguarda anche la politica della difesa. Vogliamo allargare questa nostra collaborazione anche nel campo energetico che rappresenta una novità perché per quanto riguarda i collegamenti energetici tra l'Italia e l'Ungheria finora c'era un ostacolo, c'era la Slovenia perché la Slovenia diceva no a questo trasporto attraverso la Slovenia.